Ciao a tutti, sono RDT e oggi siamo nel primissimo video delle Build Battle Le Build Battle ragazzi me le avete chiesti in moltissimi Ma davvero davvero tanti, anche nel RDT FAC Veramente me le avete chiesti in moltissimi E finalmente sono qui per portarveli Siamo pronti, dobbiamo fare una sirena Ehi, come cazzo faccio a fare una sirena? Io? Allora, con calma Io ragazzi, nelle costruzioni non vi sa di che faccio cagare Dovrebbe essere una cosa del genere Questa qui dovrebbe essere la coda della sirena Questa poi è la coda della sirena? Farò cagare, io ve lo dico Io ve lo dico, allora facciamo tipo un corpo che va verso Questa parte Aiuto Mi sto facendo cagare, ma che cosa sto facendo? Non sembra una sirena, sembra un porco Guardate, ma cos'è? Ma che cosa sto facendo? Cos'è che sto facendo? Facciamo tipo le mani così Sto facendo qualcosa di bruttissimo Non è una testa, sembra una cosa orribile Allora, mettiamo qua gli occhi della sirena Li mettiamo azzurri Si può fare azzurri? Azzurri, dai, mettiamoli azzurri Gli occhi della sirena Azzurri, azzurri Non sembra, raga, non sembra una sirena Allora, prendiamo la lana, 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 lana Gialla Li facciamo i capelli Almeno che dovranno un po' abbellirla Non dico tanto Ma un po' un po' un po' abbellirla Trasciniamo da sta parte Tutti sti capelli Che sembrano tutti, tranne dei capelli Io ve lo dico Via, 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 a terra A terra, a terra, a terra Vai Cosa sto facendo? Cos'è che sto facendo? Ah, mettiamo secchio d'acqua Almeno questo qui Credo, eh Aspettate Faccio così Faccio così Oh 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 Facciamo qualche cosa tipo di Roccia, roccia Si, si, si Qualche piccola montagna Ce la faccio in 30 secondi Dai, dai, qualcosa Qualcosa che può sembrare Una, una cosa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Non ce l'ho fatto Non ce l'ho fatto Ma cos'è? Eh, vabbè Ma che cazzo? L'hai fatto per le menne? Sirenetta Escile Oh Questa è figa Però non è finita, amico mio Poi non è che sto votando io Cos'è che sto facendo? Questa è figa, raga Questa è figa Questa, questa, questa Questa è figa, ok Ok, ok, eh, ok Sembra che è tipo morta Però ci sta Questa, questa Sembra tutto Tranne che una sirena Sembra una porno star Io ve lo dico, io ve lo dico Questa non è una sirena Ma è un sireno Eh, sì Perché è maschio Un sireno, sì Questa sta a pecorina No, no No, no No, no Posso capire Ma questo non ha faccia Non ha niente Non ha Come ha fatto a vincere Cosa dici Cos'è che dici Diswan Diswan Non so che cazzo significa Però diswan Alieno Alieno? No, no Scusatemi una cosa Voglio andare a cercare Un alieno Su Minecraft C'è un cazzo qua di alieno Cos'è che posso fare di alieno? Ah, posso fare una vicela spaziale Raga Non è che posso fare più di tanto Io faccio una vicela spaziale Giusto così Ma non so neanche Com'è che si fa Una vicela spaziale Perché qua ho visto Delle navicelle spaziale Che poi non sono neanche fatte Su Minecraft Però ci sta Questa dovrebbe essere Una navicella spaziale Io ve lo dico Io ve lo dico Questa qua Secondo me è la miglior Navicella spaziale Nel mondo Cioè È normale È normale Anche un minuto Non penso proprio Raga che ce la farò mai Non penso proprio Perché vorrei fare anche io Delle particelle Ah, mettiamo del vetro Il vetro vorrei Tipo un vetro nero Sì, un vetro nero ci sta Un vetro nero ci sta Tutto Ci sta tutto Qui tipo Una cosa del genere È anche qui Ok Mettiamo anche Un po' qui intorno Perfetto Non è perfetto Però va bene Va bene così Facciamo una cosa del genere Una cosa del genere Chiudiamo Con qui Con del vetro In qualche modo Giusto per riparare La barbabietra Che abbiamo fatto Notte Poi mettiamo la luce No, no, no Come è Pietra Pietra Luce No Com'è Come si chiama No, questa 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 Luminite 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 Giusto per metterlo qui Ai bordi E cos'è Ma che cazzo fa No, vabbè Ragà No, vabbè Ma che cos'è Che fai Qua tutto il Tu sei un coglione Tu sei Io te lo dico Questo ha fatto Che cazzo è Sembra quello lì Del film Ora non mi ricordo Com'è Che si chiama Ma perché Disegnano dei peni A degli alieni Perché Ma il senso Il senso Ce li ha Disegnare dei peni A degli alieni Oh Ah, mi insomma Pure qua Avevano disegnato un pene Eh, dai Questo qua Già ci sta Questo è più che un alieno Sembra un Un animale Con Con una torta In testa Ma cos'è Ma cos'è Che cos'è Questo se lo finiva Usciva figo Io ve lo dico Ancora questo il pene Ma vabbè Gli alieni Hanno il pene Lungo quanto La mano Di un porco No, raga Raga Non può aver vinto Ma che Ma perché Ci sono i team Ma ha vinto Questo qua Con un pene grosso Così Eh, che cosa fai Niente Abbiamo visto Che le build battle Sono proprio Manovrate Da certa Gente Molto Pedofila Niente Dai Io direi Che questo Primissimo Video Delle build battle Può finire qui Se il video Che è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E la prossima Star DT E ciao 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 Ciao